albergo il viaggio è andato bene abbiamo compilato i moduli e siamo pronti per fare turismo in che situazioni ci troveremo cominciamo dall'albergo è importante prenotare per non correre rischi prenotazione di una camera d'albergo se non avete prenotato la prima domanda alla reception sarà buongiorno avete una camera libera avete una camera libera guten tag haben sie ein zimmer frei guten tag haben sie ein zimmer frei ecco la risposta che non volete sentire spiacenti è tutto occupato se avete prenotato potete dire ho una prenotazione una prenotazione ich habe reserviert ich habe reserviert altrimenti fate un tentativo dicendo gentilmente non ho la prenotazione mi dispiace ich habe nicht reserviert ich habe nicht reserviert e poi spiegate ho bisogno di una stanza ich brauche ein zimmer ich brauche ein zimmer per una notte für eine nacht per due adulti e due bambini für zwei erwachsene und zwei kinder für zwei erwachsene und zwei kinder vi sembrerà strano ma conviene specificare con servizi mit bad und toilette mit bad und toilette con letto lo singolo o letto matrimoniale mit einzeln bett oder mit doppel bett mit einzeln bett oder mit doppel bett mit einzeln bett oder mit doppel bett dove la stanza al primo piano im unteren stock im unteren stock o piuttosto all ultimo piano im oberen stock im oberen stock come ci arrivo? devo salire le scale? di treppe hinauf di treppe hinauf o scendere le scale di treppe hinauf di treppe hinauf ma ho le valigie c'è per caso l'ascensore? fahrstuhl la locazione dell'albergo è importante per un turista e determina il prezzo l'albergo può essere in centro vicino alla stazione o in periferia è importante conoscere l'indirizzo esatto dove vi trovate? wo befinden sie sich? wo befinden sie sich? se non siete sicuri chiedete sempre come arrivo da voi da e naturalmente per evitare sorprese per favore qual è il prezzo? non sempre il prezzo è scontato il prezzo comprende la prima colazione ist der preis mit frühstück? eccoci ai pasti prima colazione frühstück frühstück pranzo mittagessen mittagessen e la sera? cena abendessen abendessen abbiamo quasi dimenticato la receptionist in linea cosa concludiamo? si prendiamo la stanza grazie arriverò entro le quattro danke ich bin bis vier uhr da danke ich bin bis vier uhr da in tutti i paesi che accolgono turisti ci sono uffici informazioni anche in molti alberghi c'è un desk informazioni informazioni per le vostre domande i vostri dubbi eccetera eccetera informazioni turistiche turisten information turisten information completate la domanda seguente secondo le vostre necessità scusi dove c'è un come entschuldigung wo gibt es hier entschuldigung wo gibt es hier se ci si divide per andare a fare acquisti è bene fissare un punto d'incontro punto d'incontro treff 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 punto avrebbe una mappa della città stat plan stat plan mi aiuterebbe a trovare un autonoleggio qui vicino? una autovermietung una autovermietung o forse è meglio una stazione di taxi o una fermata da autobus los taxistand una bu – unsure thoughtestelle den taxi stand una bu –cros rä� treno per un wie vi bilion ac ordinaritas ad ask las Grazie a tutti.